Noi siamo arrivati al ballottaggio in vantaggio, ma io credo che per quello che era la mia intenzione e il progetto politico che abbiamo portato avanti personalmente mi sentivo già soddisfatto perché siamo riusciti a fare una campagna elettorale parlando un po' diversamente rispetto a quello che siamo abituati. Credo che non si possa continuare a fare politica parlando contro, denigrando o attaccando. La gente ha bisogno di proposte di sognare, di pensare al proprio futuro, di pensare alla loro quotidianità senza per forza dover denigrare l'avversario. In questo aspetto avevamo già vinto, avevamo raccolto tanti consensi prima, avevamo arrivati al ballottaggio sicuramente con tanto entusiasmo ed eravamo pronti a partire comunque con un progetto di città a prescindere dal risultato poi delle elezioni. È ovvio che Verona e la sua storia raccontano di un altro tipo di maggioranza, ma credo che stasera Verona abbia anche dimostrato che è tanto altro rispetto a quello che spesso in maniera superficiale si racconta di Verona. Chi ha vissuto questa città gli ultimi cinque anni, questi tre mesi di campagna elettorale, sa benissimo che la prova contraria non esiste ma probabilmente avrei preso ancora meno voti perché le persone non avrebbero capito un accordo di palazzo fatto tra l'altro con Flavio Tosi, sarebbe stato incomprensibile. Poi io dico anche a tutti voi, chiedete sempre a me dell'apparentamento quando in tutti i comuni capoluogo mi risulta che nessuno ha fatto l'apparentamento ma che semplicemente il candidato del centrodestra che non è andato al balottaggio ha sostenuto l'altro candidato del centrodestra che è quello che anch'io auspicavo sin dall'inizio perché ho da subito aperto ad un accordo di carattere politico sui programmi per presentarci alla città con i programmi. Però questo non è stato possibile e quindi questo è, ripeto, poi la prova contraria non ce l'avremo mai. Buongiorno, da Omnibus abbiamo aperto con i commenti a caldo dei protagonisti, il vincitore e lo sconfitto, i protagonisti della sfida di Verona come punto di partenza per il nostro dibattito che naturalmente non può che partire dal commento dei risultati elettorali di questo secondo turno delle amministrative. Verona contiene tanti temi, i mancati accordi nel centrodestra, la vittoria sorpresa della sinistra, una vittoria della coalizione però dove in realtà non c'erano i 5 Stelle, dove i partiti si sono anche tenuti lontani, non sono andati né Letta né Conte, la campagna elettorale è stata giocata su Tommasi in questa chiave quindi forse partire da qui ci può dire qualcosa. Parleremo di questo, nella seconda parte della trasmissione naturalmente parleremo però anche del G7 che è ancora in corso, degli sviluppi della situazione nella guerra in Ucraina e delle conseguenze economiche. Ma partiamo dai ballottaggi e soprattutto dagli ospiti, ve li presento subito. Allora intanto bentornato a Claudio Tito che è a Roma anche se è il corrispondente del Blu Stai di Repubblica Per un giorno, per un giorno è qui e l'abbiamo intercettato. Bentornato ad Andrea Cangini che è in studio con me di Forza Italia, buongiorno. Vedo collegata da Bologna Elisabetta Gualmini del Partito Democratico e Europarlamentare, buongiorno. Buongiorno a tutti. Vedo anche Francesco Specchia di Libero, ciao Francesco, bentornato. Grazie, ciao, buongiorno a tutti. E Lorenzo Pregliasco di Utrend e partirei subito da lui per un'analisi, per un punto innanzitutto sui risultati perché Lorenzo al mattino, dopo tutto lo speciale di Enrico Mentana per chi l'ha seguito, spero in tanti, fino alla fine aveva ovviamente già tutti i risultati. Oggi il bilancio si fa anche sul numero dei capoluoghi e allora prendendo una scheda dell'Agi diciamo nel numero complessivo dei capoluoghi il centrodestra comunque è in testa rispetto al centrosinistra 13 a 10, però il precedente era di 17 a 5, quindi insomma i titoli poi dei giornali che rimarcano anche perché i ballottaggi effettivamente il secondo turno ha visto andare meglio il centrosinistra i giornali parlano principalmente di questa rimonta della sinistra o del partito democratico metto lì già un po' di temi. Lorenzo Sì, effettivamente i ballottaggi sono andati mediamente piuttosto bene per il centrosinistra è difficile capire se sia stata una vittoria di un partito o di un altro perché i ballottaggi insomma come si sa le liste non ci sono, si vota solo per il candidato sindaco quindi ballottaggi globalmente positivi per il centrosinistra, c'era stato però come sappiamo un primo turno in cui soprattutto nei comuni non capoluogo il centrodestra era andato piuttosto bene al di là di Genova e Palermo che erano le due città più grandi entrambe vinte dal centrodestra, quindi diciamo che Alessandra se vogliamo il quadro cambia un po' se guardiamo ai singoli risultati in particolare al dato di Verona che è storico per il centrosinistra o se guardiamo al quadro complessivo, qua stiamo vedendo uno specchietto un conteggio che abbiamo fatto su tutti i comuni al voto, i comuni superiori, quindi quelli con più di 15 mila abitanti, da qui si vede che insomma il centrodestra ne aveva 54 e ne ha 58 alla fine di questi due turni, il centrosinistra ne aveva 48 e ne ha 38 più 15, 15 insieme al 5 Stelle, quindi sia il centrodestra sia il centrosinistra in realtà guadagnano qualche comune, mentre il crollo vero lo vedete in basso è quello del Movimento 5 Stelle che amministrava otto comuni superiori da solo e ne amministra uno soltanto, un comune in provincia di Taranto dopo questa tornata, chiaro che non tutti i comuni pesano lo stesso e questo ci dice poi del segno politico, Alessandra come ricordavi tu stessa, se vogliamo un dato su cui potremmo completare con questa prima panoramica è proprio quello dei ballottaggi nei comuni capoluogo, perché ne abbiamo fatto anche questo riepilogo, insomma nei comuni capoluogo come si è detto Verona, ma pensiamo anche a Alessandra, Catanzaro e altri, ci sono stati molti casi, ecco qui vediamo il tweet che lo riepito, ci sono stati molti casi di passaggio a sinistra, mentre il centrodestra ha guadagnato soltanto Lucca, dunque diciamo nei 13 capoluoghi in cui ci sono stati i ballottaggi il centrodestra partiva da 10 e si ritrova con 4 sindaci, il centrosinistra partiva da 3 e si ritrova con 7, quindi un avanzato del centrosinistra soprattutto nei capoluoghi, ma considerando primo e secondo turno insieme un risultato sostanzialmente di pareggio tra centrosinistra e centrodestra, questa è la fotografia che possiamo fare questa mattina. Allora darei subito la parola ai rappresentanti politici del nostro dibattito e poi andiamo con Claudio Tito e Francesco Specchia a vedere un po' quali sono i significati e anche i possibili sviluppi, però intanto cominciamo da destra con Andrea Cangini, una destra che è stata silenziosa e molto parca di commenti perché né Salvini né Giorgia Meloni hanno commentato ancora le elezioni, nemmeno da Forza Italia ha parlato soltanto lì Ciaronzulli, quindi siamo particolarmente curiosi di avere la prima reazione. Quando si perde si commenta malvolentieri. Quindi è una sconfitta. Obbettivamente sì, insomma, che segue, ci dimentichiamo le cose facilmente, le scorse amministrative, Roma, Milano, Bologna furono un disastro per il centrodestra e tutti dissero a partire da Salvini la prossima volta faremo diversamente, ci metteremo d'accordo per tempo, troveremo i candidati migliori, saremo compatti, uniti e determinati. Anche questa volta non è andata così, non è andata così perché il centrodestra fatica a dimostrare di essere qualcosa di reale al di là delle aspettative degli elettori che ci sono, c'è il corpo elettorale, mancano i rappresentanti di un ampio corpo elettorale probabilmente maggioritario nel Paese. Per tante ragioni, perché due partiti su tre sono al governo e si sono assunti una responsabilità nazionale e il terzo è all'opposizione, giustamente fa opposizione con la demagogia classica di chi fa opposizione, perché uno di questi tre partiti, Forza Italia, fatica a dare un'idea di futuro e di conseguenza viene regolarmente marginalizzato, quasi regolarmente marginalizzato nelle giunte e nelle amministrazioni regionali e comunali e tendenzialmente cannibalizzato dagli alleati, perché si fatica a trovare classe dirigente autorevole e spendibile a livello territoriale perché di conseguenza c'è una conflittualità tale tra i due partiti principali in termini elettorali, Lega e Fratelli d'Italia, che impedisce accordi. A Verona è stato un suicidio, è stato letteralmente un suicidio per il candidato di Lega e Fratelli d'Italia non voler accettare... Perché lì però è stato proprio il candidato che non ha voluto non tanto... E però anche questo ti dice quanto siano deboli i partiti, no? Insomma, in altri tempi... Dovevano imporsi. In altri tempi non è... Il candidato, per quanto è importante, cioè non decide da solo, decide in base anche all'opinione dei leader nazionali di partito che capiscono che quella è una vetrina talmente importante da dover forzare la decisione del candidato e se lo avessero fatto il centro-destra avrebbe confermato la propria egemonia su una città simbolo come Verona. Invece è stata persa Verona, Parma, Piacenza, Catanzaro, Alessandria... Insomma, se metti insieme le città perse c'è un problema con tutte le evidenze. Elisabetta Gualmini, vado subito al punto. È una vittoria perché le prime reazioni... Vedo il titolo della stampa nel pezzo di commento e sottolinano che Letta avrebbe detto ha vinto il campo largo e così Francesco Boccia, Provenzano, ha vinto il campo largo. Quindi è stato detto... Perché non sembra così determinante il ruolo dei 5 Stelle in realtà. Ma innanzitutto ha vinto il centro-sinistra, nel senso che questa è una chiara e straordinaria ha vittoria, a mio parere, anche in attesa rispetto alle aspettative. Quindi non c'è dubbio che abbiamo raddoppiato la nostra presenza nei comuni grandi rispetto a 5 anni fa, al 2017. In questo caso si misura la compattezza delle coalizioni, non più dei partiti e la forza dei candidati al secondo turno. Io penso che il campo che è riuscito a costruire il centro-sinistra, anche con geometrie variabili che ci stanno nelle amministrative, perché nelle amministrative è possibile che ci siano schemi diversi e alleanze diverse che si compongono e ricompongono. È questo campo che ha messo insieme, vedi Verona, un candidato civico, liste assolutamente civiche provenienti da una città che aveva una gran voglia, io ci sono stata, di cambiare pagina. Questa unione di diversi mondi, al di là del peso specifico del Movimento 5 Stelle, ha pagato. Quindi secondo me sono due fattori che hanno giocato a nostro favore. Il primo è davvero la forza dei candidati, lo diciamo spesso, ma anche rispetto allo scorso turno delle amministrative, il Partito Democratico e in realtà i partiti satellite, cioè le forze politiche che ruotano intorno, riescono comunque ad esprimere una classe di candidati credibili, competenti, riconosciuti, molto radicati nelle loro comunità e questo naturalmente è sempre un plus in elezioni amministrative e poi secondo me siamo stati presi in giro per il campo largo che si è ristretto e in verità questo campo multicomposto ha funzionato. Io non penso sia abbiamo vinto solo per la debolezza della destra questa volta, cioè è chiaro che la destra a mio parere ha fatto errori giganteschi, ma apprezza anche molto l'onestà intellettuale di Cangini, cioè si è presentata divisa, addirittura Catanzaro ha scelto un candidato di centro-sinistra, cioè penso errori tattici e strategici che ovviamente nel caso non venissero replicati, che chiaramente cambieranno il quadro in qualche modo, però penso che questa volta il centro-sinistra abbia manifestato una forza sua con anche programmi molto precisi legati a quelle comunità territoriali e persone che riusciva ad interpretare. Le dirò di più, io sono sempre molto cauta nel tracciare così inferenze rispetto a livello nazionale, io penso però che la notizia di ieri sera, di stanotte, sia che il prossimo governo è più contendibile di quanto si pensi, cioè che da qui a un anno ne vedremo delle belle. Allora, non so, adesso sentiamo anche i commenti degli osservatori molto avvertiti al nostro tavolo, però comincerei da Francesco Specchia, che è di Verona tra l'altro, no? Francesco, è la tua città? Sì, è la mia città e devo dirti l'ultima volta che ho seguito una elezione un po' strana è stata nel 2002 quando Verona ottenne l'ultimo sindaco, il primo e ultimo sindaco di centro-sinistra allora, e allora Paolo Zanotto, che era un professore universitario cattolicissimo, non aveva nulla di sinistra, ma insomma figurava con la sinistra, fu trionfante per una situazione simile a questa, cioè la signora Di Mariotti, la sindaca di centro-destra, cambiò bandiera all'ultimo momento e quindi tutto il suo elettorato, come ha fatto Tosi adesso, fu deviato sul centro-sinistra. Quindi devo dire che Verona in questo è sempre stata una città un po' laboratorio. Credo che alla fine poi abbia pagato il fatto che non siano stati cinque anni grandissimi di amministrazione di Svorina, parliamoci chiaro, un po' per il Covid, un po' probabilmente perché sono state gettate le basi di alcuni progetti, ma poi alla fine non si sono realizzati. Svorina ieri ha fatto proprio da voi qui da Mentana, comunque è un mea culpa molto sentito, ma soprattutto è stato, ha voluto molto fare plan nei confronti di Tommasi, perché ha dimostrato che comunque non poteva andare a esserci un'alleanza del tipo, un'alleanza strutturale con Tosi, un apparentamento ufficiale, perché banalmente era una questione non solamente di odio personale dei due, e qui ci sta anche, però l'odio viene superato poi dalla real politica, ma il fatto che Tosi aveva chiesto, parliamoci chiaro, nove assessori su 21, di cui l'assessore al piano regolatore, alla urbanistica, e poi voleva mettere come vice sindaco la moglie. Quindi anche gli elettori non avrebbero capito, anche perché i programmi di Tosi e Svorina erano completamente diversi. E quindi probabilmente Svorina, in maniera molto onesta, nei confronti degli elettori che poi ha recuperato, ma non a sufficienza, si è spesso in questo modo. E poi bisogna, quello che diceva Cangini, in realtà secondo me, è quella che il centrodestra si è spaccato, ancora una volta si è dimostrata la scarsa responsabilità dei leader, i leader non sono venuti a Verona, non so che effetto avrebbero ottenuto. E poi chiediamo a Pregliasco su questo tema dell'effetto dei leader, perché sono stati tenuti lontani anche quelli di sinistra. Anche volutamente, a Verona di solito quando qualche leader nazionale va perde voti, però non è tanto questo, è proprio la volontà di non cercare un incrocchio elettorale, un apparentamento, insomma Salvini è elettoralmente felice nella misura in cui non lo è Giorgia Meloni, parliamoci chiaro. E quindi questo resta il nodo, questa competizione. E' alla base, continua a esserci, tensione tra i due, tra i tre, è allucinante che poi vada a riflettersi poi sulle elezioni e sull'elettorato, che non capisce, non riesce a capire. Claudio Tito. Se vogliamo dare, almeno poi diciamo con un'osservazione anche un po' più distaccata, visto che non seguo tutti i giorni queste cose, però mi sembra che il risultato finale effettivamente... Diciamo che l'hai seguita per tanto tempo, proprio tutti i giorni. Però è vero, ha ragione su una cosa di Isabetta Gualmini, che il risultato finale consente, in vista delle elezioni che si trattano da dieci mesi, cioè delle politiche, una partenza sostanzialmente paritaria. Cioè il centrosinistra ha riconquistato o sta riconquistando la possibilità di essere competitivo per le prossime politiche. Ho dei dubbi sul fatto che questo possa vivere col campo largo. A mio giudizio il campo largo è stato sostanzialmente spazzato via da queste due tornate, dal primo turno e dal secondo. È stato spazzato via per un complesso di motivi. Il Movimento 5 Stelle, abbiamo visto anche i dati, sostanzialmente non esiste più. Quindi se si intende campo largo come l'alleanza tra il PD e il Movimento 5 Stelle, quello è archiviato, non c'è più. Probabilmente il PD, il centrosinistra, dovrà pensare esattamente a una cosa del tutto nuova, perché quella non è competitiva o non competitiva, non c'è. Banalmente non c'è più. Quindi, secondo me, l'altro ragionamento che si può fare è che il secondo turno, in genere è già particolare, lo è stato in Francia, ma lo è anche adesso. Cioè il secondo turno, anche con la partecipazione al voto, l'abbiamo visto, vince chi mobilita di più, chi riesce a costringere gli elettori ad andare alle urne. Ecco, mi sembra che il centrodestra, da questo punto di vista, abbia perso tantissimo. Mi sembra molto meno capace di mobilitare, e in qualche modo la vittoria del centrosinistra mi sembra determinata in larga parte dalla sconfitta del centrodestra, proprio da questo punto di vista. L'asse nuovo del centrodestra, cioè quello che vede contrapporsi la Lega e i fedeli d'Italia, mi sembra molto forte dal punto di vista elettorale, in partenza, molto debole sulla capacità di persuadere gli elettori sulla capacità di governare, sulla governabilità. E questo secondo me che in qualche modo ha riposizionato su una bilancia equilibrata, centrodestra e centrosinistra. Perché alla fine il Partito Democratico sembra il perno di governo. Il Partito Democratico è il perno di governo ed è il perno di un governo, di un governo, diciamo, possibile, in qualche modo credibile. Nel centrodestra questa cosa mi sembra sia molto, molto appannata, sia per Salvini, che mi sembra anche lui una stella cadente, ma anche per i limiti dei fedeli d'Italia, che nonostante gli sforzi di Giorgia Meloni, alla fine un'ombra, un'ombra su quel partito, o no, su un sospetto, permane. Sul sospetto, diciamo, sto parlando naturalmente di capacità politica, non di altro, no? Ma anche di storia. Certo, vorrei tornare un momento da Lorenzo Pregliasco, appunto, perché abbiamo fatto riferimento, comunque, e lo diceva anche Elisabetta Gualmini, la scelta di candidati civici, e candidati civici che poi, appunto, come è stato nel caso di Verona, hanno puntato anche sul loro, come dire, immagine, ruolo così di outsider, di novità. Ma questo ci dice qualcosa dei partiti? I partiti sono in crisi. Ancora. Lorenzo, è stato determinante questo. È un grande classico. È un grande classico, no? Ma allora, sì, è anche vero che poi ci sono anche molti civici che hanno perso tra il primo e il secondo turno, quindi poi ci concentriamo chiaramente sulle partite più simboliche, su Verona, che era sicuramente il più importante dei ballottaggi, però, ecco, non c'è una tendenza in generale dei candidati civici ad andare meglio quando vengono candidati dalle coalizioni maggiori. Sicuramente le civiche, quindi le liste di ispirazione locale, sono andate molto bene al primo turno, hanno preso circa metà dei voti, però anche lì è difficile poi tracciare una linea netta tra civico e politico. In alcuni casi ci sono liste civiche che hanno chiaramente una connotazione politica, anche se non si rifanno esplicitamente a un partito nazionale. Una cosa che si può dire è che, guardando anche ai riflessi nazionali di questa partita, di questi risultati, è che noi dobbiamo tenere in considerazione una cosa, cioè il centro-sinistra avanza, soprattutto nei ballottaggi e soprattutto nei capoluoghi, ma, primo aspetto, l'Italia è un paese di piccoli comuni, in grandissima parte, e secondo aspetto, c'è stata ieri un'affluenza del 42% a livello nazionale. Quando pensiamo al voto politico dobbiamo sempre ricordarci che probabilmente parleremo di un'affluenza intorno al 70%, quindi la partita si giocherà su questi 30 punti di partecipazione elettorale in più. In passato questo delta, questa differenza, ha aiutato moltissimo il Movimento 5 Stelle alle politiche. Fatico a pensare che lo aiuterà allo stesso modo in queste elezioni politiche ventura del 2023. Si tratta di capire quanto, come dire, il centro-destra beneficerà di un'affluenza molto più alta rispetto a quella molto bassa delle amministrative. Sicuramente, come diceva anche Elisabetta Gualmini, e noi lo diciamo da tempo per la verità, il quadro politico nazionale, cioè le elezioni politiche, sono contendibili. I sondaggi uniti alle simulazioni sui seggi dicono che il centro-destra è favorito ma che non è strafavorito per avere una grande maggioranza di seggi in Parlamento con gli attuali sondaggi. Quindi è sicuramente contendibile, questo va detto ed è corretto. Questo è dato. Allora vedo che sta collegandosi anche il professor Carlo Trigilia, facciamo così, andiamo in pubblicità e poi continuiamo la nostra discussione cercando di capire appunto quanto questi due milioni di elettori, perché poi di questo si trattava, ci dicono questi comportamenti di quello che potrà accadere e magari anche dei riflessi nell'immediato dei rapporti all'interno della maggioranza sul governo Draghi. Pubblicità. Allora di nuovo in diretta vedo collegato il professor Carlo Trigilia, sociologo, editorialista per il domani, buongiorno. Buongiorno, allora chiedo subito a lei anche un commento su questi risultati andando già come dire a parare da una parte, cioè questo risultato dei ballottaggi del secondo turno, insomma comunque delle amministrative in generale, alla fine consolida allo schema delle coalizioni o invece può come dire spingere ancora, tiene la fiaccola di un ritorno al proporzionale ancora accesa? Credo che qualche novità diciamo ci sia da questa ultima tornata sulla quale vale la pena di riflettere e penso che anche i partiti rifletteranno. Io credo che occorra tenere conto almeno di quattro aspetti che vengono fuori da questo secondo turno. Il primo è, a mio avviso, l'importanza del radicamento territoriale nel successo del PD. Il PD resta l'unico partito che ha un radicamento territoriale più forte e a livello nazionale, cioè in tutti i territori e probabilmente questo radicamento territoriale ha fatto anche da effetto di trascinamento del voto, diciamo, anche degli stessi 5 Stelle. Quindi questo è un primo aspetto importante. Il secondo probabilmente è legato al lavoro di Letta in questi mesi e alla sua capacità di scegliere dei candidati adatti, dei candidati legati al territorio, legati alla capacità di rappresentare interessi, istanze effettivamente locali con candidati credibili. La terza cosa ovviamente è stata molto sottolineata giustamente da tanti commenti, sono le divisioni all'interno del centrodestra che hanno portato spesso a degli errori in termini di candidature e d'altra parte questo si era già visto in alcune competizioni che riguardavano addirittura città metropolitane importanti come Roma o Milano. Infine sottolineerei un ultimo aspetto che riguarda un certo disorientamento della Lega, cioè se noi guardiamo i risultati di questo secondo turno, vediamo che c'è una capacità inedita negli ultimi anni del centro-sinistra di penetrare all'interno dei territori del centro-nord del paese, addirittura in alcune zone che sono tradizionalmente patrimonio di una tradizione ormai forte impronta leghista prima di Forza Italia, eccetera. Questo disorientamento probabilmente ha influito anche questo disorientamento della Lega che forse è dovuto alle difficoltà di digerire la svolta in senso più nazionale di Salvini. E c'era Andrea Cangini che voleva su questo dire una cosa? Obiettivamente il dato del Veneto e i dati del Sud, è chiaro che il progetto nazionale di Salvini è in ritirata, è chiaro che la Lega fatica anche nei suoi territori storici, come è chiaro che il progetto di campo largo di Letta non esiste nella maniera più assoluta, è stato spazzato via dal voto degli elettori. Il grande tema secondo me è portare al voto quella metà abbondante in questo caso, largamente abbondante, di elettorato che non è andata a votare e non è andata a votare con cognizione di causa, non è me ne frego, no, e non sono rappresentato. E siamo all'anno zero del sistema politico, nel senso è finito un ciclo politico, è finito con un crollo di sistema, abbiamo larghe intese, abbiamo un tecnico, il migliore dei tecnici, grazie a Dio, che ci governa, quindi siamo proprio ufficialmente alla fine di un ciclo politico, bisogna far nascere un nuovo ciclo politico che non può essere la brutta copia del ciclo precedente, richiede persone nuove, assetti nuovi e identità calate nel tempo moderno, quindi anche questo l'anti-europeismo nella fase in cui è da matti pensare di poter governare uno Stato nazionale contro l'Europa, l'ambiguità nelle alleanze in una fase di guerra all'Occidente, insomma o si mettono in campo idee chiare, nuove e che su quella base si costruiscono delle coalizioni, oppure è ufficiale che le coalizioni oggi non ci sono, non ci sono nel centrodestra come non c'è nel centrosinistra, ci sono dei partiti che annaspano come il PD e il PD cerca di nascondere le liste civiche, sono un modo per nascondere il simbolo del partito, è chiaro questo? La domanda resta, poi la faccio anche a lei Elisabetta Gualmini, però torno da Carlo Trigilia perché su questo era ancora sull'analisi, cioè c'è la possibilità secondo lei lo spazio per spingere verso un ritorno proporzionale o non cambierà la legge elettorale e resta nelle coalizioni? Cosa ci dice questo esito dei ballottaggi? Allora io penso che ci dovrebbe essere una riflessione in quella direzione, cioè in direzione di rivedere la legge elettorale in termini proporzionali, credo che sarà difficile che questo si realizzi, però vorrei spendere un secondo per indicare in che senso l'esito di questa tornata elettorale rafforza l'idea che un cambiamento in direzione proporzionale potrebbe essere utile non solo dal punto di vista del PD ma dal punto di vista del funzionamento complessivo del sistema. Guardi, noi abbiamo visto in queste elezioni non tanto il fallimento del campo largo, ma il fatto che il campo largo si afferma più per via sociale che per via politica, cioè dire abbiamo visto che il caso di Verona è emblematico, dove si lavora sui territori, sulle istanze, sui problemi, quindi ci si lega alle forze sociali più attive che vogliono cambiare un po' lo sviluppo in questo caso delle città. Questo prevale sui rapporti di vertice tra i partiti, sulle alleanze costruite nel palazzo. Allora questa è un'indicazione importante perché credo che Letta nelle ultime dichiarazioni un po' lasci intendere che questo tipo di svolta anche nell'intendere il campo largo sia in questo momento alla sua attenzione e all'attenzione del PD. Se ci muoviamo in questa direzione, cioè di concepire le alleanze più come una costruzione sociale di una coalizione, piuttosto che una costruzione fatta a tavolino nei palazzi romani tra i vari leader e leaderini del centro, se ci muoviamo in questa strada il proporzionale potrebbe essere un elemento che dal punto di vista contingente aiuta il PD su questa strada ma avrebbe anche il vantaggio, sul quale poi se vuole possiamo discutere perché si ricollega anche alla questione dell'astenzione, avrebbe il vantaggio di offrire una prospettiva di più lungo periodo per il paese probabilmente più solida. Sentiamo però quello di cui stiamo parlando, vedevo Claudio Tito sorrideva e comunque si conferma anche il... No, sorrido perché secondo me il professor Tiggi ha ragione il problema è che secondo me sta cambiando la definizione di campo largo, anche in maniera un po' furbesca nel senso che il campo largo come l'abbiamo vissuto negli ultimi sei mesi, un anno, l'alleanza dal PD nel momento 5 Stelle non esiste più, non c'è più, non ha alcuna praticabilità. È evidente che il senato del PD ha bisogno di non smentire quello che ha fatto nell'ultimo anno e ridefinire il concetto di campo largo che non può essere più lo stesso e in qualche modo... Però non si capisce perché poi le forze politiche che ruotano intorno al centro-sinistra sono quelle, quindi o appunto c'è uno schema diverso... Sono quelle però, è vero, allora sono quelle, però intanto il momento 5 Stelle non è più quello di prima, non è più quello di quattro anni fa, non è più quello nemmeno di due anni fa, ma nemmeno di un anno fa, anche banalmente dal punto di vista del peso elettorale, perché ha subito una pesantissima scissione, quindi è cambiato. Però se si guardano sempre i risultati elettorali si vede che la quota di elettori che stanno sul centro-destra o sul centro-sinistra ormai è da circa 20 anni che sono due quote sostanzialmente equivalenti o poco distanti. Quindi è vero che chi guida le coalizioni o chi guida uno dei due campi deve fare in modo che quella quota in qualche modo sia convergente nelle urne e quello è l'unico obiettivo. Allora, il campo largo, come l'abbiamo visto fino adesso, non è più in grado di mobilitare quel 42-43%, 44% e bisogna trovare una nuova modalità. Sentiamo Elisabetta Gualmini, che ha doppio ruolo, perché come sapete è anche un politologo che si è occupato tanto del Movimento 5 Stelle, l'ha studiato quando era alla testa dell'Istituto Cattaneo. Le volevo chiedere, intanto, ovviamente come esponente del Partito Democratico, questa ridefinizione del campo largo e se condivide l'analisi che comunque non esiste più, nella definizione che conoscevamo, quindi il rapporto privilegiato con i 5 Stelle. E l'altra cosa è se non teme che Conte, alla fine, possa decidere di seguire i consigli di chi, mi riferisco per esempio all'area così culturale del fatto quotidiano, gli dice esci, lascia il governo, fai qualcosa, cerca uno spazio fuori dalla maggioranza. Ma dunque, intanto dico subito che secondo me non cambierà in nessun modo il sistema elettorale, anche a me farebbe piacere modificare questo sistema elettorale, ma per fortuna forse conta più una guerra alle porte dell'Europa o dentro l'Europa che non il sistema elettorale, quindi io non vedo alcuna possibilità di un cambiamento, per cui bisogna rassegnarsi volenti o nolenti ad andare con delle coalizioni, facendo delle alleanze. Non c'è dubbio che l'alleanza organica tra Movimento 5 Stelle e PD ad oggi non è più configurabile, non è più quella ipotizzabile, quella del passato, e quindi che bisognerà ridefinire ovviamente il campo di tutte quelle forze, quei movimenti e io spero e guardo molto anche al centro, a quelle mille sigle del centro, che prima o poi dovranno fare una scelta tra la destra e la sinistra, anche perché noi siamo aiutati in questa ridefinizione del campo da una destra forte che è una destra destra estremista, cioè che è la destra della Meloni dell'Andalusia, sì alla famiglia tradizionale, no agli immigrati, no alle comunità LGBT, no alla violenza islamista, cioè a un messaggio talmente radicalizzato e, permettetemi, medievale, che penso ci darà un'enorme mano durante le elezioni politiche, perché io poi non so quanti italiani effettivamente vorranno vedere quella destra primeggiare e andare al governo. Il Movimento 5 Stelle è arrivato alla fine di un ciclo, cioè bisogna prenderne atto, è un movimento di protesta che finisce per governare con Mario Draghi, cioè è chiaro che ha completato la sua funzione, cioè deve completamente ritrovare un'altra identità e un altro posizionamento. Evidentemente Di Maio aspettava l'attimo giusto per scappare da una situazione in grande perdita, ha scelto probabilmente il momento più opportuno, cioè dopo la sconfitta alle amministrative, e vedremo se lui e il suo cerchio magico in qualche modo troveranno una loro ricollocazione. Io penso che invece Conte abbia davanti una fase di grande difficoltà, perché certo la tentazione di tornare alle origini, cioè la tentazione dello strappo potrebbe averla. Sì, potrebbe averla, ma noi vediamo Conte a Braccetto con Di Battista andare insieme a Paragona, Italexit, andare a contestare l'antisistema, i poteri forti, i politici, i zombie e gli psiconani. Cioè francamente, se quella che Cangeli dice di sì, mi faccia sentire che ne pensa specchia su questa tentazione. Poi vi taccio, sulla campagna elettorale, volevo dire questo, secondo me è una cosa che ha giovato al centro-sinist, è stato anche il metodo della campagna elettorale, cioè ieri abbiamo visto, ieri l'altro, questi tre video un po' asettici dei tre leader del centro-destra, che dicevano votate uniti, insomma dopo grandi divisioni. Devo essere sincera, Enrico Letta, non so quante scarpe abbia consumato, ma si è fatto campagne elettorali molto vecchio stile, andando proprio da tutti, in tutti i posti in cui si votava ad Alessandri a Catanzaro, con un metodo e una presenza, e è riuscito a tenere unito questo partito. Cioè sono due anni che noi non parliamo di correnti, cioè è una specie di miracolo. Però non vuol dire che non ci siano, però questo è un altro capitolo. Questo non l'ha detto, non l'ha detto, ma non ne sa. Francesco Specchia, questo potrebbe, questo risultato, e la constatazione, appunto, perlomeno è finito un ciclo, come diceva Elisabetta Gualmini, potrebbe spingere Conte a questo strappo? Ma guarda, Conte può rendersi molto più concavo e convesso di Berlusconi dei bei tempi, può essere allo stesso tempo Moro e Pietronenni, non mi stupisco di nulla. Devo dire la verità, forse probabilmente in queste condizioni, ah sì, ho usato dei termini un po' al, il parere un po' al, ce lo so. Chiedi per loro subito. Hai ragione, perché è la prima cosa che mi è venuta. Però onestamente, devo dire la verità, la moto di Maio è stata assolutamente, nel suo contesto, geniale. Cioè la ricerca di questo illusorio centro di gravità permanente, a cui mirano tutti, e a cui Di Maio poi si è accostato, quindi fingendosi anche una sorta di leader, bisogna capire quanti leader ha il centro fantomatico. Questa è stata una mossa che ha spiazzato assolutamente Conte. Io credo che a questo punto la possibilità di staccarsi esista, esista perché, ma staccarsi solo dalla maggioranza, ovviamente non parliamo di uscire e di fare fuoco e fiamme e di ribaltare il tavolo, perché nessuno dei 5 stelle vecchi, antichi o nuovi, o Contiani o Di Maiani, ha nessuna intenzione di mollare allo scranno, anche perché sappiamo perfettamente, l'avete detto tutti, i 5 stelle sono arrivati alla fine del ciclo, hanno un 2, 2,5 di voti di lista a livello nazionale, in questo momento, dal 30 che erano, è praticamente la scissione dell'atomo che è avvenuta ultimamente. Quindi onestamente il fatto che Conte possa pensare di isolarsi e correre nelle praterie dell'opposizione che erano un po' più larghe prima con la sua Meloni, potrebbe essere la soluzione per tenersi buoni sui duri e puri e un lettorato, comunque insomma, un gruppo di fan che fa capo nel fatto quotidiano che comunque gli dicono di dare la svolta e di mettersi con Di Battista. Può mettersi tranquillamente la bandana da Che Guevara e Conte in qualsiasi momento e devo dire anche che non ci sarà alcun tipo di scossone a livello nazionale, parliamoci chiaro. Non c'è nessuna proiezione politica del risultato elettorale, non c'è mai stata o settoriale. No, sulla stabilità di governo, pensi di no? Sulla stabilità di governo e poi chiudo dicendo che sulla legge elettorale mi stupisce un po' questo ritorno proporzionale e soprattutto mi stupisce l'idea che ogni volta si debba tagliare sartorialmente una legge elettorale ad adattarla a desiderata del partito politico del momento. Tendenzialmente non funziona mai in tanti anni che ho visto e come studioso di legge elettorale. Allora però c'è Lorenzo Pregliasco che è un grande esperto di legge elettorale soprattutto di Rosatellum e Lorenzo vogliamo farlo un ragionamento perché Letto ha detto mi pare che sia l'attacco di uno dei pezzi di ricostruzione del PD eccetera di oggi forse del Corriere della Sera Letto dice ora pensiamo subito alle elezioni del 2023 e quindi pensando a questo e pensandole con il Rosatellum secondo te anche a Conte anche al Movimento 5 Stelle che cosa potrebbe convenire e a Calenda che dice che vuole correre da solo? Diciamo intanto che appunto di qui alle politiche c'è solo la Sicilia la regionale in Sicilia in autunno e poi non abbiamo altri appuntamenti elettorali in un certo senso la Sicilia ha in passato qualche indicazione alla data sulle politiche successive però è chiaro che ormai i partiti stiano guardando a quello all'appuntamento della primavera del 2023 io non penso che il sistema elettorale verrà cambiato su questo sono d'accordo con con Elisabetta Gualmini e con chi sosteneva ecco questo punto mi pare molto complessa una riforma elettorale quindi stante il Rosatellum cosa accade? Che chiaramente c'è un incentivo a coalizzarsi perché il Rosatellum ha circa un terzo dei seggi assegnato con dei collegi uninominali e si basa sull'impianto delle coalizioni questo è sicuramente vero diciamo in teoria dopodiché ci vogliono anche le condizioni politiche per creare delle coalizioni e il problema a me pare sempre questo cioè si parla di campo largo ma concretamente Calenda e Conte e Di Maio e Letta e magari Renzi possono stare in un'unica coalizione e questa è la domanda a cui bisogna rispondere se la risposta è sì bisogna anche chiedersi se poi Conte mantiene i suoi voti nel momento in cui è alleato di Calenda e se Calenda mantiene i suoi voti nel momento in cui è alleato di Conte questo andrebbe approfondito certamente la cosa che si può dire diciamo con i dati di oggi con le tendenze nazionali è che il centrodestra ha un margine in questo momento a suo vantaggio in caso di elezioni con il Rosatellum ma la cosa che si può dire anche specularmente che soprattutto al Senato sarà tutt'altro che semplice avere una maggioranza solida quindi qual è lo scenario che emerge nonostante il Rosatellum quindi un sistema un po' maggioritario potremmo trovarci Alessandra tra 11 mesi più o meno probabilmente verso maggio se quella sarà la data delle elezioni con che cosa un Parlamento sostanzialmente bloccato non dico come nel 2018 ma quasi e a quel punto bisognerà probabilmente ragionare se così sarà di una formula politica di larga intesa questo questo ci dice anche che i sistemi elettorali da soli non basta non decidono le elezioni certo ci vogliono i voti ma questo diciamo anche fortunatamente Francesco sento che volevi dire qualcosa è esattamente il progetto di calenda questo che sta dicendo Pregliasco assolutamente cioè il fatto di arrivare a questo punto e poi passare la palla nuovamente a Draghi o un simil Draghi un governo Draghi senza Draghi comunque con un tecnico che ci possa consentire poi di traghettare ricordiamoci poi sempre il solito PNRR perché non è che è finita qui con PNRR ne abbiamo fino al 2026 ci stiamo spingendo già a questo scenario naturalmente però insomma poi le elezioni poi calenda poi a Lucca non è che abbia fatto tutte queste grandi perché poi alla fine parliamoci chiaro la foto di Vasto che si stava sovrapponendo a quella tra Letta come diceva ieri Tommaso Labatte da voi a Letta e a Calenda è una foto che è sbiadita lì e è sbiadita anche qui quindi vuol dire che quel tipo di coalizioni fondamentalmente non fa comodo né al PD e neanche a Calenda che giustamente vuol correre da solo ma sono una questione di visibilità personale chiaro allora abbiamo pochissimo dobbiamo andare in pubblicità poi abbiamo un cambio di ospiti argomenti delle notizie da dare però prima di salutare Andrea Cangini e Elisabetta Gualmini volevo chiedere intanto Andrea Cangini questa competizione Salvini Meloni l'abbiamo sfiorato l'argomento però visto dall'interno si dovrà chiarire a un certo punto è devastante insomma ma non viene accettata la leader nessuno dei due ha mai sfiorato neanche lontanamente il ruolo di leader della coalizione nessuno si è fatto carico dell'interesse generale del centrodestra e hanno un livello di conflittualità che non si era mai visto nella storia del centrodestra che è esiziale che impedisce di convergere di trovare candidati vagamente accettabili e di lavorare uniti per la loro elezione quindi è un sistema autodistruttivo allora due notizie uno una notizia che arriva che riguarda la situazione nella guerra in Ucraina la notizia arriva da fonte Ucraina dallo Stato Maggiore Generale delle Forze Armate Ucraine e la notizia è che dalla Bielorussia 20 vagoni di munizioni sarebbero arrivate sarebbero state inviate alla Russia quindi c'è questo ruolo della Bielorussia che approfondiremo poi dopo la pausa pubblicitaria avremo ospite anche Vittorio Emanuele Parzi su questo l'altra notizia è una notizia molto triste perché è morto lo scrittore Raffaele La Capria è un flash d'agenzia e poi vi sapremo dire di più ma intanto questa è la notizia ci fermiamo qui per questa prima parte e saluto Elisabetta Gualmini e Andrea Cangini gli altri ospiti rimangono con noi arriverà Vittorio Emanuele Parzi Allora di nuovo in diretta do il buongiorno e benvenuto anche al professor Vittorio Emanuele Parzi insegna relazioni internazionali all'Università Cattolica di Milano c'è anche il suo libro Titanic ne abbiamo citato altre volte ma eccolo qui lo faccio vedere anche oggi buongiorno allora è rimasto con noi anche il professor Carlo Trigilia Francesco Specchia Claudio Tito e Lorenzo Pregliasco che ci aiuterà ancora a tenere insieme anche i fili ancora delle elezioni non soltanto di quelle italiane però vorrei partire con lei professor Parzi per fare un po' il punto sul risultato del G7 che per la verità non è ancora finito è in corso anche oggi e però insomma ci sono notizie che sono uscite da lì che riguardano un atteggiamento unitario anche se in questa diciamo sottolineatura di uniti contro Putin eccetera però poi qualche divisione affiora perché decisioni su un embargo vero sul petrolio anche sul petrolio che è quello forse più a portata di mano non ci sono forse c'è quello sull'oro sul gas il tetto al prezzo del gas proposta italiana appoggiata da Biden anche lì non ci sono stati grandi segnali quindi le chiedo qual è il bilancio per ora del G7 buongiorno intanto grazie io tendo a vederlo positivo mi spiego al G7 raramente vengono assunte decisioni esecutive immediate il G7 è sempre stato in realtà fin dalla sua nascita con una numerazione più 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 ristretta è sempre stato il punto di raccolta delle degli alleati degli Stati Uniti dal punto di vista economico i grandi paesi dell'Occidente allargato alleati degli Stati Uniti e su questo ha sempre funzionato su questo mi sembra abbia tenuto una linea molto chiara che è il messaggio politico più importante a Putin durasse quel che durasse il sostegno non verrà meno questa è la questione più importante a mio avviso sulle divisioni a me sembra che in realtà sia più un problema di articolazioni legate a due questioni innanzitutto una che è il peso economico delle sanzioni il costo economico delle sanzioni è un po' diverso da paese a paese e che i diversi paesi hanno ricette preferenze diverse su come abbattere un po' questo costo e poi c'è l'altro grande tema che non dobbiamo mai dimenticare che il G7 raccoglie tutte le democrazie importanti democrazie con le grandi economie diciamo così dell'Occidente ma sono sistemi che sono molto diversi tra presidenziali iperpresidenziali per così dire la francese o parlamentari all'italiano o parlamentari con leadership molto forte nel gabinetto come quella inglese per cui è praticamente impossibile che da lì esca una decisione esecutiva a me sembra che la linea sia quella il segnale sia forte sul petrolio valuterei stiamo aspettando di capire quanto effettivamente queste sanzioni stiano pesando sulla Russia e in questo momento credo che la strada sia piuttosto quella di continuare il massiccio sostegno militare all'Ucraina e non quello di illudersi che le sanzioni sul breve periodo possano fare qualcosa la guerra finirà non per questione di sanzioni ma per questione di sostegno militare Claudio Tito sei fresco del Consiglio europeo no? dal punto di vista intanto se condividi ovviamente questa lettura e dal punto di vista dei rapporti europei sul G7 diciamo sul petrolio io non mi aspettavo un gran che ma anche perché gli Stati Uniti e la Gran Bretagna l'embargo l'hanno già deciso l'Europa lo ha già stabilito in realtà partendo poi dal primo gennaio semmai una delle ipotesi era quella già avanzata dalla Yellen dal segretario diciamo ai affari economici americano di imporre un tetto al prezzo del petrolio quello si scontra con la grande divisione che c'è in Europa su questo cioè sull'imporre un prezzo ai beni energetici nella fattispecie sul gas lì c'è stata la contrarietà dei cosiddetti falchi ma soprattutto la contrarietà tedesca ora vedo che poi Scholz durante il G7 forse pressato da Biden abbia cominciato a mollare però la grande spaccatura che veramente ha dato l'idea di una paralisi dell'Unione Europea riguarda il comportamento da avere sul gas russo non credo che nel brevissimo termine si risolva almeno che da qui alle prossime settimane due tre settimane non succeda qualcosa di clamoroso dal punto di vista bellico in Ucraina o anche dal punto di vista dei flussi del gas della Russia perché noi dobbiamo ricordarci che ormai da un mese un mese e mezzo che dalla Russia c'è una riduzione costante dei flussi di gas verso l'Europa e mi sembra anche dal contesto in cui si muove Putin che si arriverà per forza di cose a una sostanziale cancellazione delle forniture di fronte a quella eventuale decisione secondo me cambierà completamente lo schema sia nell'Unione Europea sia diciamo nei paesi del G7 e anche sul terreno per quanto riguarda la guerra in Ucraina Francesco Specchia no no sono assolutamente d'accordo c'è di buono che abbiamo un premier che riesce ad imporsi a livello internazionale e si è imposto anche di forza in quella che una volta era l'alleanza cosiddetta Franco-Carolingia che si basava sul patto di acquisisgrana che dirigeva attraverso i flussi di Francia e Germania tutta l'economia europea quindi Draghi si è imposto in questo e soprattutto ha imposto il modello del tetto al gas che è un modello a cui stanno guardando adesso tutti il problema grosso i programmi sono due uno è un problema di carattere tecnico perché dice un discorso che per fare il tetto al gas bisogna mettere una metoda in modo di sanzione non si capisce come formularlo se farlo come come forma di acquisto congiunto allora ci sono tutti i paesi europei che possono esercitare una forza di interdizione nei confronti della Russia oppure usarlo come dazio rovesciato oppure ci sono tutta una serie di cose tecniche che non vi dico però poi c'è un problema legato ai paesi ansiatici cioè ai paesi cosiddetti frugali che fondamentalmente non vogliono quel tetto un po' perché questo potrebbe anticipare una nuova stagione di come dire di allargamento nei confronti dei paesi mediterranei per nuove sovvenzioni nuovi tipi di fondi da attribuire è un po' perché ci sono dei problemi per esempio in Norvegia nessuno lo sa ma la Norvegia che paga il gas credo che la paga a 19 euro al metro al metro cubo lo vende a 100 102 euro e non si capisce perché cioè il tetto del gas paradossalmente va a rendere trasparente tutta una serie di speculazioni che non riguardano solo la Russia ma riguardano purtroppo anche i nostri partner di livello superiore i paesi così questo anche in Orlando succede è la stessa cosa in Olanda è rutto e infatti è contrario è rutto Olanda che è una piazza che è una piazza molto importante per quel mercato tutti ci stanno in realtà questa guerra ha messo in luce molti lati oscuri soprattutto quello della speculazione su paesi che secondo tradizione dovrebbero essere amici dunque ieri a parte diciamo rispetto alla questione precedente conseguenze del voto amministrativo quadro politico c'è una dichiarazione che riporto perché è legata a quello di cui abbiamo parlato del ministro Patuanelli del Movimento 5 Stelle che dice che il Movimento 5 Stelle anche nella sua versione ridotta di Conte non uscirà dal governo questo è solo una parentesi la apro e la chiudo invece volevo chiedere a riportare chiedere a professor Trigilia Draghi ieri proprio durante il G7 ha detto attenzione la crisi energetica non deve produrre un ritorno del populismo oggi Lucia Annunziata sulla stampa legge questa frase come se Draghi vestisse dice veste i panni del politico nel dire questo però questo è un tema forte quello dell'impatto che potrà avere una crisi economica derivante crisi energetica derivante dalla guerra sul diciamo sul quadro politico e sui populismi nonostante la crisi dei 5 Stelle lei come come la vede che effetto le fa questa frase penso che abbia fatto bene Draghi a sottolineare quest'aspetto perché ci avviamo verso un autunno che sarà molto complicato per usare un eufemismo credo che lui lo abbia fatto anche come risposta a quello che era successo al Consiglio d'Europa al Consiglio europeo quando lui ha proposto la questione di mettere un tetto al prezzo del gas che praticamente non è stata accolta soprattutto per resistenze di alcuni paesi come l'Olanda e la Germania quindi in qualche modo ha rilanciato forse anche con l'idea di trovare una sorta di appoggio anche nel presidente americano Joe Biden e ritirare fuori quest'argomento del populismo è comunque una cosa importante perché non va sottovalutato l'effetto delle vicende che stiamo vivendo su quella che sarà la situazione economica del paese ma anche di altri paesi europei che rischiano di affrontare appunto come dicevo l'autunno in situazioni di grave difficoltà e quindi l'azione di Draghi secondo me si spiega anche in questo modo per cercare di attirare l'attenzione sulla necessità di fare qualcosa Vado da Lorenzo Pregliasco prima di tornare da professor Parsi perché Lorenzo questo tema dell'impatto della crisi anche della guerra su sull'offerta politica che poi potrà esserci e anche su forze diciamo antisistema in Francia si è visto per esempio no? No è un tema tra l'altro potremmo pensare a un precedente di tutt'altro segno per carità però insomma prima delle politiche scorse ci fu una lunga crisi migratoria per esempio che era un po' un fattore che arrivava da fuori e che però orientava anche le priorità le preoccupazioni di un certo segmento di elettorato e in quella fase quel fattore esogeno chiamiamolo così favorì sicuramente le risposte antisistema soprattutto la scesa della Lega in quegli anni tra il 2016 e il 2018 ora è prematuro dire se la stessa cosa avverrà magari a favore di Fratelli d'Italia in questo caso però è lecito porsi la domanda è lecito chiedersi se diciamo così il clima d'opinione la sensibilità comune del paese dell'elettorato sarà tra 10 11 mesi la stessa di oggi o se invece sarà molto diversa ci sembrano vicini i momenti delle elezioni politiche ma ricordiamoci che nella politica italiana insomma 10-11 mesi possono fare un'enorme differenza credo che e torno dal professor Parzi appunto questo sia molto importante questo tema dell'impatto sulle opinioni pubbliche della durata della guerra sia appunto per un effetto magari di produzione di posizioni nuovamente populiste o di rafforzarle magari in altra forma lei come come la vede sì io penso che sono d'accordo con quello che dice Pregliasco tra l'altro ci tengo a sottolinearlo perché ricordo ancora che una volta tanti anni fa sembrava che volessi polemizzare con lui e quindi faccio pubblica ammenda il come si dice io la vedo così sostanzialmente che l'impatto della guerra se c'è sull'elettorato appunto si scarica attraverso le vicende socio-economiche la guerra non ha costruito un quadro radicalmente differente all'interno del modo di gestire l'economia e il rapporto tra la politica e l'economia soprattutto dentro l'Unione e quindi credo che questo sia il tema prima parlavamo del gas oltre al rapporto tra i paesi c'è il rapporto tra quelli che diciamo così commerciano il gas o quelli che raffinano il petrolio a cui francamente non interessa nulla che i prezzi scendano perché più i prezzi sono alti più guadagnano e questo è un tema c'è quindi un tema forte di come rimettere un po' equilibrio il sistema europeo e l'economia europea che ha tante cose da rivedere eccessiva dipendenza da import da paesi minacciosi eccessiva dipendenza dell'export da paesi altrettanto politicamente complicati come penso alla Cina complessivamente un'eccessiva dipendenza da un'economia tutta tirata verso l'esterno e poco attenta a investire sul suo interno per riequilibrare quelli che sono i destini economici è chiaro che con la guerra le conseguenze della guerra polarizzano una situazione socio-economica già complicata e possono produrre in effetto analogo a quello che successe dopo il 2007 2008 e poi nel 14 per quanto riguarda l'Europa per cui le preoccupazioni di Draghi sono legittime e guai a pensare che siccome 5 Stelle a Naspano o Salvini diciamo così prende sportellate dovunque si muove allora abbiamo risolto il problema del populismo perché l'esperienza ci insegna che soggetti in grado di intercettare un malessere che esiste e di fornire risposte sbagliate a un malessere che esiste si creano all'impronta per così dire e soprattutto rischiano di condizionare l'agenda dei soggetti che di per sé populisti magari non sono quindi ci sono una serie di complessità secondo me da tenere sotto occhio bene fa Draghi a fare il politico e il per quello ci dobbiamo fermare un momento per la pubblicità restate con noi allora di nuovo in diretta torno dal professor Parzi e ricomincio con lei perché volevo però chiederle qual è il punto sul terreno poi domani ci torneremo anche su questo elemento anche dal punto di vista diciamo strategico e militare con gli ospiti domani ma vorrei chiederle oggi qual è la Russia sta vincendo alla fine questo è un po' il punto poi no? no nel senso il punto è questo sì ma la risposta è no la Russia non sta vincendo perché le guerre si vincono dal punto di vista politico non si vincono avanzando o arretrando il buon vecchio Klausowicz ricordava che il terreno si può lo spazio in guerra si può conquistare perdere e riconquistare per cui non è questo il punto secondo me anche le minacce di aprire un fronte bielorusso con le solite vaghezze diciamo così dal punto di vista nucleare sono tutti elementi che fanno pensare che non ci siamo da quello che sappiamo è chiaro che gli ucraini hanno un consistente problema di truppe di truppe da sostituire da far riposare da rimettere diciamo in condizioni di operatività però è anche vero che si stanno attrezzando per uno scontro più lungo la ritirata tattica che hanno eseguito in questi giorni ha avuto proprio il senso di non costituire oggi una nuova acceieria ASO non avrebbe avuto nessun senso mentre ne aveva due mesi fa quindi a me sembra che la guerra non stia andando come il Cremlino desidera il Cremlino non sta facendo volare forza aerea sostanzialmente vuol dire che è corto di piloti è corto di materiali è corto di addestramento la gran parte delle armi finora impiegate dagli ucraini sono armi di fabbricazione russa ed è abbastanza paradossale che i russi non abbiano sistemi di protezione rispetto ai loro sistemi anticarro e ai loro sistemi antiaerei che benedetto Dio la prima cosa che uno fa è rendersi sicuro rispetto alle minacce che è capace di produrre quindi a me sembra che dal punto di vista tattico è importante in questo momento tenere la linea mi sembra che sia molto importante che le armi arrivino e arrivino rapidamente e che il personale possa essere addestrato però io non vedo questo successo russo cioè sono praticamente gli avanzamenti sono sostanzialmente limitati la quantità di perdite è spaventosa e continuamente è uscita un'agenzia che diceva con fonte sempre ucraina fonte Kiev che si parla di 35.000 soldati russi morti ma poi vede che non ci sono mai immagini di ospedali da campo io non vedo mai una logistica moderna dietro ai russi non vediamo mai immagini di evacuazione dei feriti non vediamo mai immagini di tutta quella struttura che in una guerra contemporanea fa sì che le persone che vengono colpite non si trasformino in morti o sostanzialmente inabili al combattimento in maniera permanente allora tutto quello che stiamo vedendo ci fa vedere una macchina militare che è francamente estremamente come posso dirle ammalorata e questo è pazzesco se pensa che Putin salì al potere sostanzialmente ai tempi del totale degrado dell'armata rossa ancora si chiama così alla fine della fiera e ha puntato molto sulla sua ammodernamento e noi guardando a quello che succedeva in Siria negli anni scorsi ritenevamo che questo ammodernamento ci fosse stato soprattutto in termini di comando e controllo a quanto pare non è così per cui dal punto di vista tattico è innegabile che c'è un avanzamento russo ma se quelle sono vittorie come diceva un famoso condottiero non ci servono sconfitte allora Francesco Specchia vengo da te perché sembra che ci sarà un ulteriore invio di armi in Italia dall'Italia verso l'Ucraina e questo a questo punto diciamo con l'esito delle comunicazioni del governo i Draghi è rimasto tutto come era quindi non servono ulteriori passaggi parlamentari per decidere questo invio però potrebbe essere questo se appunto parlavamo della tentazione di Conte potrebbe riaprire questo questo fronte o non se lo può permettere il Movimento 5 Stelle anche se appunto nella sua dimensione ridotta ma io credo che appunto questa dimensione più ridotta pulviscolare devo dire del Movimento 5 Stelle impedisca di fare fesserie ulteriori perché Conte ha perso quello che ha perso ha perso soprattutto una serie di operazioni sbagliate e di gestione del partito ma ha perso il suo consenso anche e soprattutto in questa tornata elettorale per i continui cambi di rotta nei confronti di un governo di cui fa parte io mi stuferò sempre di dire che Conte è quello che tendenzialmente ha fatto la polemica sulle armi e sappiamo tutti che è quello che in due legislatori ha aumentato di più in assoluto le spese militari in Italia ed è quello che fino all'altro giorno tutto quello che faceva che gli chiedevano gli Stati Uniti di fare faceva compreso il TAP compreso tutta una serie di operazioni benevole peraltro dal punto di vista proprio del governo dell'azione governativa credo che questa cosa qui delle armi sia tra l'altro una roba fittizia perché c'è un report che tra l'altro è stato pubblicato al Corriere della Sera è un report franco tedesco di qualche giorno fa che stabilisce e fotografa la situazione reale dell'invio delle armi noi in Italia siamo quelli che mandiamo meno armi in assoluto di più alla Russia all'Ucraina scusate all'Ucraina meno addirittura della Lettonia cioè la Lettonia che è uno Stato che ha la popolazione di Milano manda più armi di noi quindi è tutta una polemica assolutamente astrusa e assolutamente inutile aggiungo a questo che faccio una postilla come diceva il professor Parsi che è un discorso che condivido assolutamente sulla situazione russa i russi non solo hanno un esercito curiosamente acciaccato e a mal partito ma ricordiamoci che comunque i russi sono anche spietati perché dobbiamo sempre ricordarlo c'è una spietatezza di fondo anche nella tattica e nella strategia militare sono quelli che mandavano nella seconda guerra mondiale i fantasini sulle mine per aprire il varco per i tank morivano a pioggia i soldati russi li facevano uccidere le proprie prime file degli ufficiali e tendenzialmente si ritrovano in una situazione militare abbastanza bizzarra che non possono utilizzare le 6.000 attestate nucleari su cui hanno puntato negli ultimi 20 anni perché ovviamente se non ci sarebbe un'escalation atomica e nessuno la vuole e si trova in una situazione astrusa dal punto di vista della tattica perdono generali a grappoli e poi soprattutto dall'altro lato c'è una grande azione economica vera vera delle sanzioni perché è notizia di oggi che la Russia è in default tecnico tra l'altro una cosa che il governatore della banca russa aveva già preconizzato qualche tempo fa default tecnico per una questione di mancati pagamenti sono 100 milioni di pagamenti di debiti esteri e questo può comportare un'escalation proprio nei debiti che la Russia ha nei confronti del resto del mondo cosa fa la Russia su questo la soluzione non è tanto rivolgersi all'occidente è creare questa è la cosa più drammatica che dovremmo tener conto una cosa di cui si è spesso parlato una sorta di fronte occidente e antioccidente cioè i BRICS e le continue riunioni di un fronte antioccidentale governato appunto da India e da Cina e dalla Russia e poi oltre al Pakistan a Sudafrica insomma ai 95 paesi che non hanno votato le risoluzioni può comportare un problema proprio di schieramenti ed è l'unico modo che la Russia ha per reagire a questa catastrofe che sta vivendo parliamoci chiaro allora torno al professor Trigilia perché volevo chiederle però parliamo ancora di questo tema diciamo italiano l'ipotesi che ci possa essere ancora qualche segno di insofferenza sul rispetto all'invio delle armi e quindi che questo diciamo che ci sia una pressione di una parte dell'opinione pubblica diciamo tra virgolette pacifista ma soltanto per semplificare che possa premere diciamo così e costituire dare corpo alla tentazione di Conte come dicevamo prima il Movimento 5 Stelle insomma c'è questa parte nella società sono voti a disposizione su una posizione diversa visto che dall'opposizione però Giorgia Meloni è molto atlantista ecco sì io non sopravvaluterei questo aspetto diciamo non credo neanche che nell'attuale condizione Conte abbia interesse a insistere su questo punto credo che però ci sia un problema che riguarda l'Italia ma riguarda anche gli altri paesi a partire dai paesi europei di cercare di uscire da questa situazione diciamo un po' bloccata per cui da un lato giustificatamente diciamo si forniscono le armi all'Ucraina dall'altro però non si riesce a fare una pressione adeguata credo che ci abbiano provato anche Scholz e Macron e lo stesso Draghi non si riesce a fare una pressione adeguata sugli ucraini perché si avvii in qualche modo un processo di negoziazione della situazione da questo punto di vista è comprensibile che loro ribadiscano diciamo pubblicamente l'idea che vogliono difendere i loro confini originari ma di fatto a mio avviso una qualche negoziazione deve essere avviata perché altrimenti ci troviamo in una situazione di binario morto e di endemizzazione di questa guerra che potrebbe durare anche molti anni con conseguenze veramente destabilizzanti qui ritorniamo all'almonito di draghi dal punto di vista dell'opinione pubblica e della ripresa di forme di mobilitazione chiamiamole populistiche comunque di reazione della popolazione soprattutto se come è molto probabile che accada in autunno andremo verso forme di razionamento non solo del gas ma anche di altre fonti di energia e quindi ci troveremo in una situazione di grave difficoltà Claudio Tito Claudio Tito no io naturalmente come tutti io penso che sia sarebbe bellissimo avviare i negoziati per una tregua magari per la pace anche diciamo esortando gli ucraini ad avviarli però io ho l'impressione che il problema non sono tanto gli ucraini ma sono i russi mi sembra che Putin soprattutto nelle ultime settimane abbia confermato di non essere disponibile a qualsiasi forma di trattativo negoziato allora rovesciare su Kiev la responsabilità di un mancato avvio di un percorso di pace mi sembra diciamo anche ingiustificato o anche ingeneroso nei confronti di quel paese perché la scelta di non trattare di non discutere e anche diciamo i tanti tentativi svolti ad esempio da Macron nei confronti del presidente russi lo confermano è Putin che non vuole che non vuole la pace e non vuole nessun tipo di trattativa anche il discorso fatto la scorsa settimana a San Pietroburgo l'annuncio di un nuovo missile diciamo di una certa importanza balistica l'uso della Bielorussia adesso per trasferire le munizioni confermano che il Cremlino non ha intenzione di arrivare ad una trattativa almeno non lo è in questa fase qual è una fase in cui che cosa potrebbe spingere alla trattativa che è la domanda professor Parzi che poi ci facciamo purtroppo fin dall'inizio l'insostenibilità del conflitto per Mosca il punto è che bisogna che la guerra vada avanti se c'è un paese che non può permettersi sei mesi ancora di guerra è la Russia paradossalmente perché l'Ucraina è stata devastata ma gli ucraini stanno dimostrando che se sostenuti sono in grado di lottare ancora i russi no allora io credo che noi dovremmo lavorare come è stato sottolineato prima sul mettere in evidenza che allinearsi con la Russia è strategicamente un fallimento per i paesi che possono pensare di avere una tentazione antioccidentale e su questo l'Occidente dovrà chiaramente ragionare in termini di ampliare quello che è la sua capacità di attrazione rispetto a sistemi che sono molto lontani dai nostri standard però secondo me la pace arriva quando i russi capiscono che andando avanti non fanno altro che andare indietro questo è il punto ci vorrà tempo può darsi che ci sia pressione o cambio di leadership al Cremlino non lo so questo è un problema russo il fatto è che loro non possono sostenere sei mesi di conflitto ancora io penso questo allora ci dobbiamo salutare devo passare il testimone Andrea Pancani naturalmente ci sono ancora commenti sul risultato delle elezioni amministrative anche se non ci sono ancora commenti né da parte di Giorgia Meloni né di Matteo Salvini che naturalmente stavamo aspettando sul fronte sinistro invece di sinistra abbiamo detto del Partito Democratico però non c'è neanche il commento di Conte per quanto riguarda invece la situazione sul campo fonti ucraine parlano di bombe nella regione di Kharkiv con due civili morti ci sono stati anche bombardamenti su Odessa ancora questa questa mattina dichiarazioni dal G7 che però vedremo meglio ci saranno nella giornata di oggi quindi le commenteremo domani per ora ha parlato Scholz il cancelliere tedesco e purtroppo ancora la notizia che sono stati trovati oltre 100 cadaveri sotto le macerie di un edificio a Mariupol ci fermiamo qui grazie per averci seguito voi da casa i nostri ospiti per essere stati con noi ci vediamo domani buona giornata ciao a tutti i nostri ospiti ciao a tutti i nostri ospiti ciao a tutti i nostri ospiti